Qui con noi c'è una protagonista di Sanremo ed è Gigliola Cinquetti. Ciao Gigliola. Ciao Maurizio. Ben rientrata al centro, non della vita, ma perlomeno dell'attenzione. Grazie Sanremo. E questa settimana sei anche protagonista di un'inchiesta sui baci. Questa è un'altra nozione veramente al bacio, è dall'inizio che parliamo di baci. Tu sei una delle 28 prime donne. Baciatrici. Baciatrici. Per te vedo che baci molto, dico che baci molto, sei molto riservata, però non hai raccontato il tuo primo bacio è stato buffo, mi sembra. Si, niente di speciale. Mentre quello vero a te niente, quello è molto privato, non è raccontabile. E quanti baci hai ricevuto a Sanremo, al festival, dopo la tua affermazione? Circa. Molti baci, molto calore, molta amicizia da tutti, veramente, è stato molto bello. Eh, è visto che vale la pena anche tornare in gara. A una ragazza, per chiamarti ragazza, che ha vissuto molti festival, da allora ai nostri giorni, ecco, sei cambiata più tu o hai cambiato più il festival? Direi che siamo cambiati abbastanza tutti e due, siamo cresciuti, siamo cambiati tutti. Tutti siamo cambiati, ma tu non hai... Anche tu sei cambiato. Sì, cioè, di parola è non cambiare in peggio, hai detto anche tu sei cambiato. L'ho detto con un'aria un po'... Sì, giusto, va bene, è giusto, c'è chi migliore e c'è chi peggiore. No, io credo che si migliori sempre. Anche i dopo festival sono cambiati o non sono cambiati? Sono cambiati sì. È vero? Altro che. Ma sono peggiorati o migliorati? Sono più organizzati? Una corsa dai miei figli, che una volta non c'erano e questo mi rende questo festival molto più bello. Figli che però hanno partecipato, no, cioè nel senso di hanno vissuto la tua presenza. Beati loro se ne infischiano. Se ne infischiano e non fischiano nemmeno un motivetto ancora, no, non è che hanno una loro super classifica personale. Niente. 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 Giorda, quanta fatica ti è costata? Ti è costata più fatico o è la soddisfazione è pari o ha superato la fatica per questo rientro in questi meccanismi, in questi, diciamo così, questi meccanismi che sono la via del successo, da fare un disco, studiarlo, poi prepararsi a delle tournée. Cioè, questa atmosfera ti è costata fatica per conquistarla? Una fatica molto piacevole, una fatica piacevolissima e abbastanza proporzionata alla soddisfazione. Ci sono già programmi imminenti tipo, non so, tournée in Germania, dove si vanno a promozionare i nostri dischi, in Francia, in Inghilterra, versioni di questo... Sì, ci saranno la versione francese, la versione inglese, tedesca, spagnola e quindi poi anche la promozione in questi paesi, la promozione televisiva in questi paesi. Un'altra ultimissima domandissima, piccolissima, è la seguente. Tu hai in preparazione anche un LP, cioè è un rientro alla grande, un rientro alla grande a 33 o un rientro a 45? Sì, ma tutto senza fretta. Cioè, hai voglia di andare molto ad agio? Calma. Prendi tempo. Ecco, ora io vi regalo 3 minuti e 57 di relax, perché io trovo che questa canzone di Gigliola sia rilassante, ti fa pensare, ma non ti intriga molto. La trovo rilassante. È positivo o negativo questo fatto che io trovi una canzone rilassante? Direi molto positivo, perché abbiamo tutti bisogno di relax, però mi dici anche che non ti intriga e questo non mi sta bene. Ai ai ai. Tu. Rifletti, rifletti invece. Meditate gente. Io cercherò di bermi questa canzone, questo 3,57 di Gigliola Cinquetti, a Super Classification. Ciao. Svegliarsi una mattina al centro della vita, ma con qualcosa dentro che non se ne va. Trovarsi in mezzo a situazioni senza uscita e riscoprire a un tratto la semplicità. Chiamalo amore. Chiamalo amore. Chiamalo amore. E risponderà. Far pace coi ricordi per ricominciare. Far pace coi ricordi per ricominciare. E non lasciarsi dietro a mezza verità. Tu chiamalo amore. Tu chiamalo amore. Chiamalo amore. E amore sarà. Tu chiamalo amore. Tu chiamalo amore. Anche se ti tradisce. Tu chiamalo amore. E quando il gioco finisce. E non hai più parole. Tu chiamalo amore. Tu chiamalo amore. E camminare senza fretta per guardare. Tu chiamalo amore. In faccia senza più paura la realtà. Parlarsi tanto fino ad arrivare al cuore. Tu chiamalo amore. Sapendo quanto costa la sincerità. Tu chiamalo amore. Tu chiamalo amore. E risponderà. Tu chiamalo amore. Tu chiamalo amore. Anche se ti tradisce. Tu chiamalo amore. E anche se sono carezze. Tu chiamalo amore. Anche se ti tradisce. Tu chiamalo amore. E anche se sono amore. Tu chiamalo amore. E anche se sono carezze. Che ti sbaccano il cuore. Tu chiamalo amore. Oh, evviva. Siamo al culmine di Super Classification Show. Al punto più bello.